Ciao a tutti, benvenuti a Benda Radio, sono Stefani, voglio raccontare il mio sogno, voglio diventare una giornalista, una giornalista che fa la differenza, perché voglio fare da un modo meglio, da il mio contributo, a modo di far capire ciò che so fare la mia serita. Ho sempre seguito di diventare una giornalista, ho sempre avuto una grande passione per questo, sì da quando ero bambina, sarebbe una grande gioia per me se il mondo sono si realizza. Mi piacerebbe anche leggere notizio, matrimonio, niscette, feste in chiesa e essere una giornalista significa avere coraggio nel parlare, come io adesso sto facendo, e parlare, scegliere le parole di pronunci, curare il mio proprio aspetto, avere un codice anche di abbeamento. Questo è il mio sogno, e con me c'è il mio amico, si chiama Fredy, lui vuole raccontare una storia di musica. Ciao Fredy, come stai? Ciao Stefani, buonasera a tutti. Ciao. Perchè tu vuoi, perchè tu vuoi la musica di Gospè? Ciao, ciao Stefani, ciao. I love Gospè musica, perché mi fa senti felace, mi fa senti felace, quando mi fa senti felace, quando mi fa senti bene. Ok, va bene, va bene. Perchè tu vuoi mettere di nuovo? Perchè tu ha detto, se mi piace il musico, il Gospè di Cristiano. C'è tanti cose perchè tu stai, o di piacere? Si, sono cristiana, da ero in la casa di cristiani, quindi mi cresso in un background di cristiana, quando mi fa chiuscire di cristiana, se mi fa senti felice, mi fa senti felice, mi fa senti, che mi fa senti nel mondo, che ci sono in modo di migliorare, che nel luogna di boni persone, quindi cristiana è un esempio di una mia vita nel mio 화ico. Quindi ogni ora quando ci sono chiuscire di cristiana, io ho chiesto di gioco di gioco, mi fa senti felice, mi fa senti felice, mi fa senti felice bene. Quindi, mi piace la cristiana musica. Bravo, bravo bravo ma vuole cantare una canzone per noi adesso well what i'm going to say that stephanie is that whenever i'm in that mode of that music do you like to sing now yes i like to sing some gospel music when i'm in the mood like this when i'm your studio today so i like you like now like now okay so stephanie we should go on this my music okay oh happy day 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 when jesus was when jesus was Grazie, grazie, grazie. Ciao tutti. Ciao, ciao, ciao. Grazie, grazie. Oh, bravissi. Stai. Dospakar. Valla.